Siamo con Matteo Smozzo, l'opposto della Chiamas Dami per Santa Croce, che torna alla vittoria 3-1 contro Ravenna, per te 21 punti. Bella partita, bella partita, volevamo tornare alla vittoria dopo comunque l'ultima partita a Castellana, dove abbiamo faticato tanto e non siamo riusciti a portare punti a casa. Sapevamo che dovevamo lavorare, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, lo è stata, perché comunque ci sono stati tanti momenti dove anche noi siamo stati messi sotto da loro, perché comunque come si è già visto nel girone d'andata non c'è una squadra che può essere considerata un fanalino di cola, anzi, sono tutte squadre che giocano, siamo tutte squadre lì a 2-3-5 punti, bella partita. Poi comunque giocare qua tra le mura di casa con questa atmosfera è sempre bello, abbiamo la curva che continua a supportarci e grazie mille a loro, grazie mille a tutti coloro che sono venuti stasera. Ci serviva questa vittoria, quindi adesso da domani torniamo a lavorare perché è 29, quindi tra tre giorni siamo a Cantù per giocarci la prima fase di Coppa Italia. Come la vedi? Un'altra battaglia, un'altra battaglia, Cantù è una squadra che ha vinto mi sembra tutte le partite in casa tranne la prima con Bergamo, comunque prima giornata dove sono tutte le squadre sono in fase di ritoraggio, quindi però tranne con la partita è imbattuta in casa. Sarà una battaglia, poi comunque tornare a giocare nel polazzetto dove ho giocato gli ultimi due anni non è facile, sarà bello, sarà bello. E quindi vedremo, intanto godiamoci questa vittoria per stasera e domani pensiamo già a Cantù. Grazie mille. Grazie a voi.